Con 25 milioni di bambini che nascono ogni anno rispetto ai 4 milioni che nascono negli Stati Uniti, è facile capire che l'India sappia cosa vuol dire essere genitore. Quindi come crescono tutti quei bambini? Beh, prima di tutto c'è la virtù della gentilezza e pazienza. Una delle cose più ammirevoli che i genitori indiani cercano di insegnare ai propri figli è la gentilezza. I bambini e le bambine sono incoraggiati ad essere modesti e gentili con tutto ciò che li circonda, dagli estranei per strada ai più piccoli insetti che trovano nel cortile. Gli indiani credono che ogni essere vivente sulla terra meriti lo stesso rispetto. E non dimentichiamoci della pazienza, mostrare emozioni negative e irritabilità non è ben visto. L'uomo paziente governerà il mondo, è il motto che i genitori indiani insegnano ai loro figli. Informazioni controllate Cosa ricordi di aver visto in tv quando eri piccolo? Un gatto e un topo che cercavano di uccidersi a vicenda? Bene, i genitori indiani non ne sarebbero molto felici. Cartoni animati violenti o stupidi non sono popolari qui. Invece i bambini indiani di solito guardano programmi sull'arte e sull'educazione. I bambini piccoli non usano i tablet. Gli indiani credono fermamente che internet possa essere pericoloso per i bambini e persino danneggiare la loro personalità. Prima le buone maniere I genitori indiani non tollerano un comportamento irresponsabile e maleducato. I bambini non possono semplicemente fare un capriccio e sbattere la porta, a meno che non vogliano essere puniti per mesi e mesi. Non esistono nemmeno discussioni familiari, a ogni bambino viene insegnato ad essere rispettoso verso i propri familiari e i genitori cercano di fare il possibile per rendere il legame tra fratelli indistruttibile. Sono anche molto attenti all'etichetta a tavola. I più piccoli possono giocare con il cibo, ma a 10 anni si finisce nei guai. Dopotutto le buone maniere formano l'uomo, giusto? Dare il buon esempio Come può un bambino essere gentile, rispettoso e indipendente se i suoi genitori sono maleducati e irresponsabili? I genitori indiani sanno che le loro abitudini saranno i tratti futuri dei figli. Ecco perché non sgridano i bambini ma cercano di mostrargli come comportarsi attraverso l'esempio. Inoltre in India molte famiglie vivono spesso sotto lo stesso tetto, quindi le generazioni più anziane non esitano a mostrare ai loro nipoti le regole. Forte legame genitore figlio Lo spazio è un privilegio in India, quindi non molti bambini hanno la propria camera da letto. Le mamme indiane credono nell'attaccamento genitoriale, quindi cercano di passare ogni singolo minuto con i neonati. I dottori indiani raccomandano persino che le nuove mamme dormano con i bambini. Certo, è abbastanza comodo, se è ansioso, vuole mangiare o ha bisogno di un cambio di pannolino puoi gestire subito il problema. Questo tipo di cold sleeping di solito finisce quando un bambino compie 6 o 7 anni e si pensa che questo periodo insieme rafforzi il legame tra genitore e figlio. Una dose di indipendenza Di solito i bambini indiani iniziano a lavorare fin da piccoli. I ragazzini tendono a lavorare nei campi e a aiutare con gli animali, mentre le ragazzine fanno le faccende e si prendono cura dei fratelli più piccoli. I genitori indiani vogliono che i figli diventino indipendenti e responsabili il prima possibile, così nessuno qui si sdraia sul divano con un sacchetto di patatine a guardare i cartoni tutto il giorno. Naturalmente i genitori non lasciano i figli ad affrontare queste sfide da soli, sono sempre lì nel caso in cui il loro piccolo abbia bisogno di aiuto. L'importanza dell'istruzione Ogni genitore vuole che il figlio sia il migliore e le mamme e i papà indiani non sono diversi. Prestano molta attenzione ai risultati accademici dei figli e cercano di aiutarli il più possibile lungo la loro strada. I genitori indiani vogliono che i figli abbiano successo più di ogni altra cosa. E che cos'altro se non una buona educazione può aiutarti ad avere maggiore successo, giusto? Quindi non c'è da stupirsi che ci siano regole molto severe che dicono quando è tempo di giocare e quando di studiare. E che tu ci creda o no, i bambini spesso ringraziano i loro genitori per avergli insegnato il valore dell'autodisciplina. Lezioni di spiritualità Per molte persone indiane la spiritualità è una parte fondamentale della vita. È ciò che i loro genitori gli hanno insegnato, ciò che la scuola ha incoraggiato ed è l'essenza di ciò che sono. Fin dalla più tenera età i bambini conoscono i rituali familiari e vi prendono parte, esplorando lentamente questo lato della vita. I genitori indiani credono che l'introduzione alla spiritualità aiuti i bambini a scoprire se stessi e capire il mondo che li circonda. Bene, questo è un modo per farlo. Controllo finanziario Quando si tratta di soldi, i genitori indiani sono tutt'altro che rilassati. No, non hai bisogno di questo e no, questo non è necessario. La logica alla base di questa regola è molto semplice. I genitori indiani vogliono che i figli conoscano il valore del denaro fin dalla tenera età. Quindi, anche se un bambino ha dei soldi in tasca, è strettamente controllato e sa che non può comprarsi un bel Pokémon. È una tattica piuttosto dura, ma sembra che funzioni. I bambini indiani crescono sapendo che devono lavorare duramente per raggiungere la stabilità finanziaria. Tuttavia, i genitori indiani tendono a scegliere la carriera dei figli prima ancora che inizino a parlare. Naturalmente, come puoi immaginare, questo può causare tensioni, specialmente se il bambino vuole fare qualcos'altro. Ma in India la famiglia è tutto, quindi genitori e figli trovano un terreno comune in un modo o nell'altro. L'influenza della scuola Quando per la prima volta un bambino va a scuola è un grande evento per tutta la famiglia e le scuole indiane fanno un ottimo lavoro nell'insistere su tutte le cose che i genitori hanno insegnato, portandoli al livello successivo. Incoraggiano la tolleranza e spingono i bambini a scoprire il loro vero potenziale. Non c'è alcun concetto di studente preferito, ogni bambino riceve sostegno e approvazione. Il compito principale della scuola è quello di migliorarti ogni singolo giorno. Gli insegnanti mostrano ai bambini che la competizione principale è con se stessi, non con gli altri. E i genitori sono sempre lì se hanno difficoltà. Hmm, le scuole insegnano preziose lezioni di vita, è grandioso! Qual è la cosa più importante che ti hanno insegnato i tuoi genitori? Discutiamone nei commenti. Non dimenticare di dare a questo video un mi piace, condividilo con i tuoi amici e fai clic su iscriviti per rimanere su Il Lato Positivo della Vita.